Oggi si riunirà il direttivo di Finmeccanica per discutere delle deroghe al contratto nazionale, in particolare su materie come la malattia e lo stato ordinario comandato, e non solo per il settore auto. Inoltre molto probabilmente si darà anche la disdetta all'accordo siglato nel 2008. Quali sono le prospettive del sindacato davanti a decisioni di questo tipo? Lo chiediamo alla vice segretaria generale della CGL, Susanna Camusso. Indubbiamente le decisioni che prenderà oggi il direttivo di Finmeccanica sono molto importanti. Sarebbe utile che Finmeccanica non decidesse ulteriori atti di rottura, perché sia l'idea di convocare un tavolo con solo Finme e Will per discutere di deroghe, sia l'idea che viene adesso definita di recesso tecnico, cioè l'annuncio oggi per la fine del 2011 che non ha più vigore il contratto firmato da tutti e tre i sindacati metalmeccanici, sono la prosecuzione di una linea che continua a proporre rotture su rotture, cioè non c'è mai l'idea invece di ricostruire un contesto di regole certe. In particolare la decisione pericolosa è questa decisione di andare avanti sul terreno delle deroghe, dal nostro versante perché vuol dire indebolire la funzione del contratto nazionale e determinare il fatto che i lavoratori non hanno certezze sul piano dei loro diritti e delle loro condizioni, ma anche sul piano del rapporto con le imprese perché il contratto nazionale ha sempre una funzione di definizione dei diritti dei lavoratori ma anche di regola della competitività tra le imprese. Non c'è qualcuno che ha meno diritti di un altro e può usare questa come leva competitiva. Avviarsi su quella strada diventa una strada di cannibalizzazione anche dal rapporto tra le imprese e quindi una strada che davvero perde la sua funzione così come cercano di raccontarla di maggior competitività per determinare invece il fatto che si scaricano i costi della crisi sui lavoratori e sulle loro condizioni. Federmeccanica sa, gli è stato detto in tutti i modi, che se il tema è quello di come si utilizzano gli impianti, si costruiscono delle condizioni positive per la ripresa, su questo siamo disponibili a tutti, ma come è noto né norme contro lo sciopero né norme che penalizzano la malattia sono norme che possono aiutare la competitività e la crescita. Quindi c'è proprio una scelta che sbaglia il terreno nel quale muoversi. La CIS ha annunciato una mobilitazione per sostenere l'idea di un patto sociale che leghi la crescita dei salari alla crescita della produttività. Un invito al sostegno di un'idea che la Marcegaglia ha lanciato anche alla CGL. Che cosa risponde il sindacato? Io intanto comincerei a distinguere un po' di cose. È indubbio che il nostro paese ha un problema. Per noi innanzitutto quello che bisogna affermare questa situazione di crescita della disoccupazione è provare a costruire soluzioni che permettono di far ripartire il paese insieme a questo l'occupazione. Ed è indubbio che è un tema che riguarda le parti sociali. Meno senso ha la cosa che leggo in questi giorni che invece Confindustria starebbe dicendo al governo di fare tutto ciò. Mi pare che il governo abbia ampiamente dimostrato che i temi del lavoro, dell'occupazione, della crescita non siano al suo ordine del giorno e quindi invocare per l'ennesima volta che sia il governo diventa un senso di ricostruzione, di condizioni di rottura invece che di una discussione positiva. Così come ormai ci siamo abituati ma ciò non risolve la gravità della cosa al fatto che Cisle Will continua a ignorare che rappresentare in questo paese il lavoro e l'occupazione non può voler dire ogni volta a consentire alle politiche che sta facendo il governo o pensare che sia Confindustria che senza un confronto e delle soluzioni positive risolva il problema. In particolare questo annuncio che è stato fatto che la nuova linea sarebbe quella dell'evasione del fisco e da qui poi i salari e la produttività. Noi vorremmo ricordare a Cisle Will che esisteva una piattaforma unitaria sulla quale avevamo già proclamato lo sciopero generale del paese, era ancora allora in carica al governo Prodico. Lo sciopero fu sospeso in ragione del fatto che ci fu la crisi di governo. Con l'impegno che avremmo ricominciato a partire da quella piattaforma nel momento in cui ci fosse stato il nuovo governo. Poi la Cisle e la Will hanno abbandonato questi obiettivi mentre resta fondamentale la Cigelle infatti ha continuato a dirlo in tutta la mobilitazione di questo periodo non solo combattere l'evasione ma anche abbassare la tassazione sui redditi del lavoro dipendente da pensione e anche sulle imprese. Tutti i dati indicano che nel nostro paese continua a essere in corso una grave crisi occupazionale, i dati sulla cassa integrazione e le statistiche sulla disoccupazione. Quali possono essere le prospettive per i lavoratori in particolare per i giovani nel nostro paese? Noi abbiamo detto al congresso che per noi l'iniziativa deve ripartire, lo faremo già il 29 con la mobilitazione nella giornata europea di tutti i sindacati per avere dai governi politiche positive. L'obiettivo da cui ripartire è quello di un piano per il lavoro. Un piano per il lavoro perché il tema fondamentale è la ripresa dell'occupazione sia in termini di tutela per tutti quei lavoratori che oggi sono in cassa integrazione, nei processi in deroga piuttosto che in straordinaria, piuttosto che nelle ristrutturazioni e peraltro qui va sottolineato che non ci sono neanche gli stanziamenti per l'anno prossimo quindi siamo anche col rischio che si drammatizzi una situazione che per il momento si è contenuta. Ma un piano per il lavoro soprattutto perché i dati della disoccupazione oltre a prendere nella percentuale bisogna analizzarli. Il dato più grave è la crescita di una disoccupazione giovanile che nella media nazionale dice che un giovane su 4 è disoccupato ma se questo dato lo trasportiamo nel mezzogiorno del nostro paese diventa un giovane su 2. Se insieme ai dati sulla disoccupazione guardiamo i dati dello scoraggiamento scopriamo che le giovani donne stanno rinunciando a cercare lavoro e non parliamo come dire di un'antica Italia dove era normale cercare il lavoro solo magari per integrare il reddito familiare. Parliamo di una generazione di giovani donne che si è impegnata negli studi, che aveva progettato una propria presenza che sarebbe in una società della conoscenza una risorsa straordinaria. E allora il tema è come si riapre un circuito positivo per i giovani perché entrino al lavoro e come si interrompe un rischio che se no nella crisi c'è e che si incrementi invece la precarietà. Noi abbiamo detto parliamo da ciò che il governo può fare quindi ciò che riguarda l'amministrazione pubblica in termini non solo di apertura delle assunzioni e non licenziamenti come sta facendo il ministro dell'istruzione rispetto ai precari della scuola ma anche in termini di qualità delle assunzioni cioè diamo una risposta ai giovani in termini di lavoro ma anche in termini di riconoscimento del loro essere parte della società della conoscenza, dell'istruzione, delle loro caratteristiche. E quindi riformiamo e qualifichiamo la pubblica amministrazione non in termini di riduzione dei costi che non si capisce cosa vuol dire, rischia di essere la riduzione dei servizi essenziali per le persone ma facciamolo a partire dal fatto che qualifichiamo il personale, lo aggiorniamo attraverso l'ingresso dei giovani e su questa base qualifichiamo i servizi. Ovviamente questo vuol dire ragionare di un piano per il lavoro e dell'ingresso dei giovani in tutti i settori non solamente nella pubblica amministrazione anche se è chiaro che lì c'è l'immediata responsabilità del governo. Da questo punto di vista ci sono norme della manovra che non vanno bene, penso al tetto dei 10.000 per la mobilità ma non va neanche bene che si sia deciso che tutti restano al lavoro di più in un momento di grande disoccupazione, bisogna invece accelerare dei processi che permettano a chi ha lavorato tanto di andare in pensione e a chi è in attesa di poter entrare al lavoro. E poi bisogna investire nei settori nuovi, lì sono fondamentali le nuove conoscenze, sono fondamentali i giovani. Faccio un esempio per non parlare come sempre dell'auto ma per parlare di una via laterale. L'Europa deciderà, anzi ha già deciso, entreranno in vigore delle norme per cui la benzina dovrebbe essere dovranno avere una componente di benzina chimica verde al loro interno. Noi non siamo produttori, si può immaginare che l'Italia investa per creare una sua capacità di produzione di chimica verde e quindi dire dell'economia verde il versante dell'energia ma anche il versante della produzione e quindi scegliere il profilo e la qualità di un paese dando delle prospettive a tutti.